Le sette band sono le nostre, il quadro d'autore, le queryman, i coralli, gli antenati, i di di marzo, 10 anni dopo e quelli della solita ora. Quindi amore per la musica e per la solidarietà. Amore per la musica, per la solidarietà e ci sono anche delle band giovani finalmente. Ancora una serata nel segno della solidarietà, quella organizzata dai veterani dello sport sezione di Arezzo. Venerdì 19 gennaio nei locali del Dancing Principe con musica e cena preparata dagli chef Gabriele Constantino e Claudio Peruzzi, protagonisti di MasterChef, sarà una serata interamente dedicata al calcit. Il ricavato sarà infatti devoluto al servizio scudo. Da parte nostra abbiamo ideato un menù fatto completamente con i prodotti del territorio. tantissime eccellenze che stiamo raccogliendo grazie alle donazioni di tutte le persone, tutti i vari produttori che hanno aderito. e non appena avremo un quadro insieme di tutto quello che è i prodotti che ci vengono messi a disposizione, realizzeremo un menù sempre rimanendo radicati sul territorio e sui ricordi e sapori di Arezzo, della città di Arezzo e della Toscana. Allora faremo queste cose sul territorio, anticipo subito una cosa, ci saranno i crostini neri fatti con la milza della cinta del nostro grigio del Casentino, poi faremo le penne al conico sempre di grigio del Casentino, cerchiamo di usare le nostre materie prime che abbiamo qui a Arezzo e quelle che ci donano. Comunque da mangiare ci sarà per tutti, non vi preoccupate. Venite tanti, che posto c'è? Ci divertiremo anche, grazie a tutti. Sarà una serata fantastica perché avrete delle bellissime band, i nostri chef che vi prepareranno il buffet, venite numerosi, aiutate il calcio e viva la solidarietà. Con queste belle parole sulla solidarietà noi terminiamo invitandovi nuovamente venerdì 19 gennaio alle ore 20 tutti al Principe a assaggiare le magnificenze, l'arte culinaria dei nostri chef da Masterchef e poi ci saranno le band che praticamente suoneranno per i nostri amici aretini.